Oggi, martedì 11 novembre, si sono registrate le nuove puntate del trono classico, www.mariadefilippi.it Maria annuncia l'ingresso dei tronisti e subito chiede il collegamento con la sala dei VIP ed ecco entra retina in versione l'Ikea Virgin che balla e canta per tutto lo studio con la partecipazione di Gionaestre. Dopo la performance entrano le corteggiatrici e i corteggiatori, di Fabio si parlerà più tardi ma si riparte da lì, contributo con le immagini dell'ultima esterna e della testimonianza di Veronica e Manfredi, della lite con Salvatore e dell'intimità con Vincenzo e subito parte l'esterna con www.mariadefilippi.it Salvatore, per la prima volta i due riescono a parlare con calma anche della possibilità di darsi un bacio, ma la pace è fatta e il loro dolce abbraccio lo dimostra. Salvatore è raggiante, finalmente dopo due mesi ci siamo chiariti e spera che lei lo capisca ribadendo che vuole andare piano, anche perché ogni caramella ha un sapore e lui non vuole che si confondano. Rassi, pubblico, non perde l'occasione per dire a Teresa che è troppo aggressiva, mentre Gianni ritiene che Teresa sia una delle persone più vere nello studio. Vincenzo non è contento di questo riavvicinamento fra i due ma intanto Salvatore non perde, www.mariadefilippi.it, l'occasione per ballare con lei, subito dopo Riccardo protesta per una risposta che lei non gli ha dato e un altro ragazzo se ne va, se ne vanno tutti le dice Rassi. Dopo la scorsa puntata Fabio chiede e ottiene di parlarle e la raggiunge in camerino, qui le spiega nuovamente che Manfredi gli dava solo dei consigli ma Teresa non accetta le sue spiegazioni, Ora Fabio entra in studio e ancora una volta si scusa e ribadisce la sua ingenuita, Salvatore non lo accusa ma ripete che anche a lui fu chiesto di essere contattato ma lui rifiutò, Tina difende Fabio, Gianni non lo considera, www.mariadefilippi.it, ha fatto un ingenuo perché se così fosse avrebbe. Raccontato subito la verità, la polemica in furia e i due rivali si fronteggiano. Teresa chiede consiglio a Maria che è consapevole della doppia volontà della ragazza, da una parte tenerlo, dall'altra no quindi, Teresa non si fida ma Fabio dice che vuole solo restare al resto pensere a lui. Per Tina è tarocco anche Vincenzo, forse più di tutti, lo si vede dalle non reazioni e dalla freddezza, Salvatore ride perché stranamente è d'accordo con Tina. A Teresa non piace la sua reazione attuale, ma parte la loro esterna, e su una parete bianca lui scrive una lunga serie di aggettivi che la raccontano, i due si abbracciano e si baciano. Salvatore trova che abbia scritto parole fuori luogo e che sia tutto preparato. Breve riassunto delle puntate passate di Andrea e di Giona S alle prese con le loro corteggiatrici e si torna all'oggi, Giona S nota l'assenza di Cinzia e ne chiede notizia e letteralmente sparita è la risposta di Maria e si parte quindi dall'esterna di Ramalaila, con un videomessaggio gli dice che non può stare con lui ma Giona S capisce il trucco e la raggiunge male, www.mariadefilippi.it, Cose non vanno bene perché lei si siede e non fa niente per dimostrare il suo interesse, così seccato. Si alza e se ne va. Oggi ribadisce che sembrava addormentata e voleva solo dormire, nonostante le parolone che usa, sono innamorata, e sembrava preoccupata solo di andare a fare una foto, anche questa piccante, poi apparsa sul suo Facebook, il tronista, dopo un discorso fatto accanto a Maria, conclude che si sente preso in giro da lei. Le viene chiesto se ha un manager e lei parla solo di un amico che magari vorrebbe farle da manager, questa risposta suscita la reazione vivace di Gianni che le consiglia di scendere e di tornare tra i comuni mortali. Giona S inizia a non fidarsi più di lei, ci sono due rama e io ne conosco una sola, aggiunge, intanto lei esce dallo studio. Esterna con Noemi che lo sorprende nella sua camera con cornetti e colazione, con lei sta bene le dice, la corteggiatrice aveva persino chiesto alla, www.mariadefilippi.it, redazione di andare a trovarlo in Spagna a spese sue, poi scatta il loro lungo bacio. Poiché Rama dice che per questo non può essere gentile con lui in esterna, Maria le fa un lungo e articolato discorso per spiegarle che, se è interessata a lui si deve un po' sforzare e non può far pesare il suo passato, così rischia di perderlo, sembra anche che si senta superiore alle altre, Lei ammette di sentirsi diversa, mentre Giona S sta pensando se eliminare Rama Laila, Fabrizia parte con una lunga esposizione del suo percorso con lui e vuole sapere se c'è interesse e se non se ne va, Rama. Gli chiede di ballare ma lui si rifiuta, però ricorda i momenti belli con lei. La scatola di ricordi, l'ospedale dove è nata, Rama adesso piange ma Giona S non vuole ricadere negli stessi errori, tutto è in sospeso. Andrea in esterna con Sharon, i due litigano vivacemente, lui è scontento di lei che, dopo la loro lite, non si è, www.mariadefilippi.it, fatta vedere per nove giorni, si bistrattano a parole e si separano, salvo poi rincontrarsi e riabbracciarsi e infine Sharon dice di volergli bene, lui prova a baciarla ma lei si sposta, spiega ora in studio che era arrabbiata, si scusa per le parolacce che ha detto ma ribadisce che il fatto che Andrea non avesse dichiarato di non essere preso da nessuna. L'aveva scossa, interviene Valentina e nella discussione fra le due ragazze volano stracci. Invito a cena a bordo, www.mariadefilippi.it, piscina per Valentina, si parla anche di Sharon ma poi fra loro non mancano le tenerezze, ma una delle ragazze in studio le chiede come possa baciare una persona che non ha interesse a farlo, Andrea replica che i baci gli piacciono ma quando lo darà lui sarà un passo avanti. Si balla. Ramalai la rientra in studio, è incerta e con le lacrime agli occhi, quello che è successo le dispiace e non pensa di non avergli dato niente, Giona S non sa che pensare e ammette di esserci rimasto male ma ancora non sa se eliminarla, Gianni l'attacca senza mezze misure. Grazie a tutti.